Cardano-Griziotti Cardano-Griziotti è la prima partita in questo intercollegiale di pallavolo femminile del Cardano 2-0 però questo Griziotti vi ha messo in difficoltà Sì al primo set, sì, verso la fine Ma più che altro sono stati errori nostri, è calata la concentrazione Magari vedevamo che stavamo vincendo, ci siamo un po' adagiate Quindi siamo state meno concentrate in attacco ma poi abbiamo recuperato Possiamo dire che fondamentalmente la partita l'avete vinta con quel 27-25 del primo set Vi hanno recuperati da 23 a 15, temevate di perderlo? Ma no, era tutta questione di un attimo, fermarci un attimo, capire come stava andando, cosa stavamo sbagliando E poi una volta ritrovata la concentrazione, ripeto, è stato tutto, non dico semplice però insomma Che cosa stavate sbagliando? Abbiamo dato per scontato di vincere, non abbiamo più attaccato, buttavamo di là i palloni a caso Va bene, è calata la concentrazione, poi l'avete riacquistata, riacquisita nel secondo set La prossima partita vi vedrà contro il Santa Caterina Timore reverenziale? No, sinceramente non lo so come giocano No, no, ma noi andremo avanti ad allenarci come stiamo facendo Pensando che ogni avversario sia comunque difficile da battere Cerchiamo di non dare per scontato niente Quindi